Buongiorno Butei, oggi giochiamo in casa, parliamo di Bruno Lunelli 2006. Ferrari dedica questa splendida bottiglia al capo stipite di cantine Ferrari, Bruno Lunelli, derivante dalla Vendemmia 2006, una grande bottiglia da collezione realizzata in soli 6.891 esemplari. La bottiglia nasce da una selezione rigorosa delle migliori parcelle di Chardonnay di Montagna e un assemblaggio rigoroso tra loro, fanno di lei una bottiglia davvero, davvero stupefacente. 16 anni di affinamento, il Ferrari Bruno Lunelli riserva 2006 e leva l'asticella della perfezione. Complessa, profonda e matura. Dal Pallage molto generoso, questa bottiglia segue veramente il legame, stringe il legame tra finezza e forza. Ciao amici, alla prossima!